I vertebrati I vertebrati sono gli animali che sono dotati di colonna vertebral che è ricoperta come un'armatura dalla muscolatura che li tiene su Gli uccelli hanno le piume, depongono le uova e hanno due ali ciascun Mammiferi impara, anche andrò la mammaria, sono vivi pari e poi siamo tutti noi I vertebrati sono gli animali che sono dotati di colonna vertebral che è ricoperta come un'armatura dalla muscolatura che li tiene su Gli anfibi stanno in orma, in acqua e terra ferma, le uova covan come I pesci che hanno le scaglie, i rettili le squame e anche loro covan I vertebrati sono gli animali che sono dotati di colonna vertebral che è ricoperta come un'armatura dalla muscolatura che li tiene su Gli anfibi stanno in orma, in acqua e terra ferma, le uova covan Gli anfibi stanno in orma, in acqua e terra ferma, le uova covan